Lo sai a cosa mi fa pensare? A Guerre Stellari Alla scena in cui Ian solo spara al tizio verde nella cantina Sai che in realtà nella sceneggiatura originale Ian spara per primo Ma poi decisero che era meglio che fosse l'alieno ad attaccare Ian Avranno pensato che in genere i cattivi fanno la prima mossa I nuovi episodi da mercoledì 18 gennaio solo su AXM La diminuzione